benvenuti oggi vi voglio far conoscere un nuovo prodotto per il confezionamento svelto easy siamo in una società che veramente è sempre di corsa per cui tante volte anche se vogliamo preparare un pacchetto fatto a misura e nel modo più corretto tante volte non ci riusciamo per cui che cosa ci può venire incontro ci può venire incontro sicuramente la velocità di avere un fiocco che unisce la bellezza della rafia con la semplicità e la velocità del fiocco automatico vi faccio vedere come e vi voglio fare anche alcuni esempi per farvi capire esattamente di che cosa sto parlando abbiamo una pianta magari abbiamo un invito insomma a casa di amici un po all'ultimo momento e vogliamo creare un bel fiocco nel modo più veloce possibile ecco che svelto easy farà al caso nostro prendiamo un nostro nastro un nostro nastro mi piace un nostro nastro e ci basterà tirare questi due nastrini in tre secondi avremo un bellissimo fiocco la particolarità poi di questo fiocco è che non si rovina assolutamente per cui se insieme alla pianta avete per esempio anche un altro dono da fare a questi amici piuttosto che altri oggetti nello stesso sacchetto non vi preoccupate perché questo è un prodotto tale per cui anche se stropicciato ritorna sempre al suo posto guardate che bello che lo mettiamo qui lo leghiamo dietro la nostra pianta con un doppio nodo e il gioco è fatto abbiamo qualcosa che sicuramente si farà ricordare qualcosa di bello e soprattutto qualcosa di velocissimo perché in pochissimi secondi abbiamo creato la nostra confezione questo per quanto riguarda una pianta però tante volte abbiamo anche un pacchetto vero e proprio da confezionare qui c'è una bellissima carta una bellissima carta naturalmente bolis che però ha bisogno di essere impreziosita in qualche modo ecco qui prendiamo il nostro svelto easy tiriamo i due cordoncini 1 2 e 3 eccolo qua guardate che bello ci basterà soltanto fare un giro e legarlo qui in cima un doppio nodo e quello che avanza lo tagliamo con la forbicina ecco qua un bellissimo pacchetto da portare per fare bella figura con i nostri amici ma poi magari abbiamo dei nipotini no oppure degli amici piccoli dei banche perché no degli amici un po più grandi ai quali vogliamo regalare qualcosa di non particolarmente impegnativo ma perché non mettere un bel fiocco anche semplicemente su un buon sacchetto di caramelle prendiamo uno svelto easy un po più piccolo proprio perché vi dicevo lo abbiamo di tutte le misure e al mio 3 sarà pronto eccolo qua anche qui lo leghiamo facciamo un doppio giro un nodino il nostro pacchetto sarà pronto per essere trasportato a casa degli amici last but not least dicono quelli bravi una splendida shopper sì però questa shopper intanto è molto bella è perché ha questo effetto seta non so se fate caso va però impreziosita con qualcosa no magari una coccarda forse troppo un nastrino è troppo poco ecco che svelto easy secondo me è la soluzione migliore con questo colore così bello io metterei sì questo argento è cosa ne dite 1 2 3 guardate che facilità una cosa che non vi ho detto prima che però secondo me è molto importante è la caratteristica di svelto easy qual è vi chiederete a parte la praticità la semplicità e la velocità con cui si trasforma sicuramente anche la sua irregolarità che è un'irregolarità voluta un'irregolarità che piace no un po che dà quel sentore di design in qualche modo che ci fa capire che anche un fiocco non è un fiocco qualsiasi ecco che svelto easy è sicuramente qualcosa di design qualcosa che strizza l'occhio in qualche modo alla moda è una shopper e quindi va portata come tale una cosa bella è che è idro repellente è impermeabile così anche nelle giornate peggiori dell'anno non ci sarà il problema di rovinare il contenuto e poi soprattutto è praticissima da portare perché in questo modo non andiamo a rovinare il nostro fiocco vado grazie a tutti grazie a tutti